bentornato guerriero l'ora x si sta avvicinando caldera è sempre più vicina e finalmente abbiamo di nuovo i doppi punti arma da utilizzare su vanguard per livellare tutto il nostro arsenale quindi cosa dobbiamo fare per utilizzare il nostro tempo in maniera efficiente e livellare la velocità della luce dobbiamo andare in zombie in modalità solo effettuare 35 kill di tutti gli zombie che ci si precipiteranno addosso dopodiché uscire e ripetere perché 35 kill perché dopo la 35esima kill l'esperienza arma precipiterà e quindi non avrà più senso continuare uscite e ripetete l'operazione è un'operazione noiosissima che non mi piace tantissimo io preferisco andare su das house e livellare farmi le mie mimetiche quant'altro però se ti serve salvare tempo questo è il metodo migliore ti aspetto su twitch al canale twitch tv slash bitlocker per giocare insieme e non dimenticare di lasciare un like e iscriviti a questo canale per rimanere aggiornato su tutte le news relative al mondo di call of duty ti aspetto let's go